o vai andrea guarda metto in moto questa porsche guarda che bel sedile che c'ha andrea guanchotri mamma ma come sgassa ora la mettiamo qui dentro questa stanza che il forno così babbo vernice vedi davanti c'è il cofano vedi il cofano parafango e paraurti che è fuori ora lo metto dentro eccoci qua siamo pronti ora per venici alla andrea va bene qui c'è il parafango il parafango va bene vedi qui c'è un parafango e qui non c'è il parafango che è quello lì stato smontato i paroti davanti è questo e il cofano che sta qui è questo ok ecco qua qui dentro qui dentro in questa tazza babbo c'è la pistola c'è il colore e questa è la pistola che serve per spruzzare il colore guarda 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 è vista come viene grigio come la macchina ora continuo e poi ti faccio vedere alla fine allora guarda ho finito di dare il colore dappertutto anche su questo parafango su quest'altro sul cofano sul paraurti e anche su quest'altra porta ora dobbiamo vedo ho dato un po di colore qui e basta solo qui non tutta la porta poi dopo ti spiego ora dobbiamo aspettare che asciuga questo colore quando è asciutto gli diamo un'altra vernice sopra abbiamo finito ok ora siamo pronti per spruzzare il trasparente vedi vedi il colore come adesso si è asciugato tutto ed è tutto vedi come colore non è lucido babbo vedi non è lucido come la macchina vedi la macchina vedi come lucida vedi come lucida e il colore non è lucido perché il colore quando asciuga resta così resta opaco va bene per farlo lucido gli dobbiamo spruzzare sopra al colore questa cosa qui che sembra acqua vedi questa qua guarda ti faccio vedere guarda guarda vedi ha visto come resta lucido ora continuo lo faccio tutto tutti tutti poi ti faccio vedere come viene alla fine ecco qua finito babbituria finito di verniciare la borsa gli ha dato il colore e poi gli ha dato il trasparente che lo fa diventare lucido il colore vedi guarda i paraurti a posto anche il cofano vedi underground get down anche la porta dietro la porta lì è tutto a posto o vai questo è un video dedicato per andrea lica tutto per lui questo video della porsche o dai